benvenuti a questo nuovo appuntamento con i dialoghi di pandora rivista quest'oggi abbiamo il piacere di avere ospite la dottoressa greta cristini che è laureata alla sorbona e ha esercitato la professione di avvocato a new york negli ultimi anni e attualmente è collaboratrice di limes dove ha frequentato la scuola appunto di limes limes è la rivista italiana di geopolitica e dove si occupa di politica estera americana e recentemente anche del conflitto russo ucraino quest'oggi è qui per discorrere con noi a partire da questa freschissima pubblicazione per l'editore pm prefatta da lucio caracciolo che è il direttore di limes ed è intitolata geopolitica capire il mondo in guerra e io vi ricordo che se volete restare aggiornati su tutti i prossimi appuntamenti e su tutti i contenuti che verranno condivisi e prodotti nell'ambito dei dialoghi di pandora rivista potete iscrivervi al nostro canale e ora possiamo iniziare e lanciamo la sigla bene la prima domanda che vorrei rivolgerle a dottoressa cristini ha a che fare con la genesi di questo libro volevo capire come è nato quali sono le ragioni che l'hanno spinta a scrivere questo libro partendo dal fatto che sappiamo che lei negli ultimi mesi ha trascorso anche del tempo in ucraina quindi al fronte e quindi ha avuto modo di raccogliere dati informazioni e quindi di tastare il terreno come è nato questo libro grazie mille per l'invito quando la rivista tutto lo staff allora il libro nasce proprio da questa idea ovvero quella di coniugare l'analisi geopolitica mi sono formato appunto come diceva lei alla scuola di limes e il reportage più sul campo come reporter di guerra diciamo così la la sensazione è i primi mesi di guerra è stata quella di una profonda dissociazione diciamo così fra gli analisti di geopolitica che notavamo negli studi televisivi e che si sono formati come anche me sui libri di storia e in generale attraverso lo studio dei vari conflitti veramente sui libri e invece la cronaca della guerra quindi più sul micro portata avanti dai reporter di guerra dai grandi inviati di guerra che abbiamo anche con noi qui in italia la mia idea era quella di provare a coniugare i due aspetti perché molto spesso appunto l'analisi geopolitica fa delle considerazioni piuttosto macro il reportage di guerra più di cronaca di guerra fa dei reportage molto micro e io notavo questa dissociazione perlomeno questa non congiuntura che secondo me invece era interessante evidenziare quindi l'idea era di partire alla guerra diciamo così per stare anche sul campo dove effettivamente poi la storia veniva ed è ancora in fase di scrittura diciamo così dove la storia si sta facendo in ucraina per respirare quel micro e quindi raccogliere tante testimonianze intervistare i vertici di Kiev e al contempo respirare un po' del cosiddetto fattore umano che potevo ovviamente osservare tramite interviste ai civili oppure anche seguendo i militari al fronte per poi coniugare le due cose cioè ovvero appunto quel lavoro sul campo e l'analisi geopolitica forte ovviamente della mia formazione geopolitica ed è da qui che nasce effettivamente l'idea o perlomeno la terminologia il termine che utilizziamo all'IMES di geopolitica con i piedi ovvero esattamente questo cioè unire l'analisi geopolitica però stanno sul campo fare geopolitica dal campo ecco ecco grazie per questa prima risposta che peraltro anticipa anche parte delle cose che le volevo anche chiedere ma lei mi ha appunto già anticipato in particolare per quanto riguarda il rapporto fra la naturale la naturale empatia che uno studioso un analista prova naturalmente umanamente quando va sul campo e esperisce direttamente in prima persona il fenomeno della guerra e dall'altro quindi l'attenzione con l'altro atteggiamento necessario di atteggiamento freddo e quindi per più il più possibile distaccato rispetto ai fenomeni e riallacciandomi a questo discorso a questa attenzione che c'è fra i due atteggiamenti volevo farle una domanda e cercare di capire con lei che cos'è la geopolitica in che cosa consiste e quali sono le categorie analitiche proprie della geopolitica in che cosa consiste lo sguardo della geopolitica ma allora è una domanda fondamentale anche perché io in realtà ho vissuto gli ultimi otto anni della mia vita all'estero quindi poi mi sono riavvicinata alla geopolitica tramite ovviamente l'imes però effettivamente non avevo ben chiaro qui in italia quale fosse anche il livello di dibattito attorno anche a questo termine geopolitica che invece ovviamente va chiarito diciamo che ci sono è una materia una disciplina non è di certo una scienza su cui diversi pensatori che se ne sono intestate un pochino la conoscenza hanno sempre avuto idee come dire contrastanti rispetto a che cosa davvero fosse appunto la geopolitica e questo in realtà forse anche una delle parti più belle nel senso che non è proprio non è precisamente chiaro nel senso non è una scienza ovviamente è una disciplina posso dire che per come la intendo io e per come probabilmente la intende l'imes si tratta di una disciplina che punta al ragionamento quindi è un ragionamento che si fonda su il conflitto di potere fra soggetti geopolitici in determinati tempi e spazi quindi prima di tutto non essendo una scienza non esistono leggi della geopolitica la geopolitica rifugge qualsiasi tipo di determinismo quindi determinismo geografico quello che tra l'altro all'inizio alcuni potrebbero dire ha dato i natali al termine geopolitica perché all'inizio chi si occupava di geopolitica e parliamo dell'ottocento in realtà si occupava di geografia politica dopodiché tra l'altro questo termine è stato molto bandito e proibito quasi nei dibattiti eccetera perché soprattutto in italia è stato come dire sempre collegato per lo primo nei primi anni nei primi anni del novecento a l'ideologia fascista esisteva una rivista chiamata proprio geopolitica patrocinata da Bottai che in qualche modo era un tipo di geopolitica se vogliamo orientata perché proprio era orientata alla riaffermazione dell'imperialismo italiano per come lo intendeva Mussolini quindi è un termine che effettivamente spesso non viene amato ma che effettivamente ultimamente sempre di più per lo nel mio libro io scrivo che tutto è geopolitica ovviamente è un titolo molto provocatorio quello appunto di uno dei capitoli perché non è così effettivamente se la geopolitica è un ragionamento di tipo ampio quindi dialettico che si fonda su il conflitto di potere fra attori geopolitici bisogna stabilire prima di tutto che cosa siano questi attori geopolitici e per come la vedo io gli attori geopolitici sono essenzialmente soprattutto gli stati in azione in tempi e spazi determinati significa che proprio come dicevo prima non esistono postulati assiomi della geopolitica nel senso che si ragiona per casi per casi specifici quindi questo diciamo così per dare la l'idea della della definizione più più generale più economica anche della di che cosa si tratta per quel che riguarda invece le categorie importanti della geopolitica sono diverse soprattutto credo che vada evidenziato il fatto che poiché non esistono leggi queste categorie vengono applicate ai vari casi quindi ai vari dossier alle varie crisi come ad esempio quella russo-ucraina oppure quella di Taiwan in maniera e ad intensità molto variabile quindi ad esempio una delle caratteristiche fondamentali a livello qualitativo una delle categorie è il discorso del cosiddetto fattore umano quello che effettivamente uno una come me insomma che è andata poi sul campo in ucraina ha voluto proprio respirare quando parlavo prima dell'idea di intervistare civili e notare anche osservare appunto i militari in azione intervistare i militari l'idea proprio ad esempio di respirare la tenuta la coesione del fronte interno ucraino quella ad esempio è un afferisce la categoria del fattore umano ovviamente che è estremamente qualitativo e non quantitativo ovviamente altre categorie importanti sono la storia di un popolo l'autocoscienza di un popolo le narrazioni la non tanto propaganda ma proprio la auto rappresentazione quindi politici i miti politici i miti politici che più che politici direi proprio afferiscono al eventuale come dire patriottismo di quel paese e che tra l'altro magari vengono anche quindi insegnate attraverso i libri di storia ai figli e nipoti che quindi creano la pedagogia nazionale quindi i miti fondativi insomma tutta una serie di categorie antropologiche ovviamente quindi discorso culturale identitario di una certa popolazione che va a formare quello stato nazione questo è fondamentale quando parliamo di soggetti geopolitici parliamo sempre comunque di popoli cioè l'attore geopolitico è sempre interpretato in senso aggregato ed è per questo anche che in realtà si differenzia perlomeno la geopolitica per come la intendo io non considera ad esempio particolarmente rilevanti le organizzazioni internazionali perché non ritiene ad esempio l'unione europea o ad esempio le nazioni unite quelle organizzazioni che comunque risultano essere dei consessi dei forum internazionali di stato come dire capaci di esprimere una propria potenza un proprio potere perché in realtà il potere di queste organizzazioni multilaterali viene dato da viene conferito loro da direttamente dagli stati nazioni che poi decidono quali competenze o meno insomma conferire quindi questo è per per dargli idea la bellezza che io trovo nella geopolitica è che non è una scienza quindi non esiste una non esiste un ragionamento più o meno sbagliato posto le categorie fondamentali quello che a me interessa della geopolitica è che essendo un ragionamento che si spesso autoalimenta attraverso le rappresentazioni differenti delle varie collettività che si scontrano fra di loro e quindi danno luogo al conflitto che lo studio è l'oggetto studio della geopolitica non esiste in realtà mai una geopolitica perché ad esempio nel conflitto e questo è un esempio che possiamo fare nel conflitto russo-ucraino la differente percezione di che cosa si tratta di che cosa sia quella guerra per l'ucraina per la russia per l'occidente per l'america per la cina fa in modo che effettivamente quella guerra verrà narrata in maniera differente nei libri di storia di tutte queste di tutte queste collettività di tutti questi paesi e questo tra l'altro alimenterà ulteriormente probabilmente il conflitto il contrasto di narrazione in quel caso comunque sia di rappresentazione di quella guerra e questo è un esempio appunto di come esistono tante geopolitiche diverse quante sono le collettività di riferimento in quel dato momento storico in quel dato spazio che si confrontano insomma in un particolare dossier ecco grazie è una risposta davvero esaustiva e a questo punto io entrerei nel vivo della discussione focalizzando l'attenzione su sull'oggetto principale del suo libro il 24 febbraio del 2022 si è creato un vulnus nell'ordine internazionale per come lo conoscevamo la russia ha svolto un'operazione ha perpetrato ha cominciato una operazione militare di aggressione ad un paese sovrano per annettere dei territori questa questo evento è un evento epocale che ha cambiato le nostre vite io vorrei capire con lei vorrei avere la sua opinione in merito per capire come siamo arrivati a questo punto come è stato possibile che putin che la russia abbia aggredito un paese sovrano quindi quali sono i fattori che hanno spinto putin ad aggredire l'ucraina se ci sono fattori interni o fattori anche internazionali e in questo contesto capire anche qual è il ruolo che giocano che possono giocare gli stati uniti e quali interessi anche nutrono gli stati uniti in questa partita certo è una domanda fondamentale che ho ricevuto da più parti insomma perché effettivamente e questo mi aiuta a ricollegarmi effettivamente per aggiungere un ulteriore elemento all'idea di che cosa sia la geopolitica è importante quando si fa geopolitica fare quello sforzo che è sempre fallibile e quindi sempre imperfetto di mettersi nella testa degli altri è per questo che uno dei capitoli del libro si chiama nella testa del nemico probabilmente noi con gli occhi occidentali con i nostri codici antropologici difficilmente riusciamo a capire perché putin abbia si sia svegliato appunto così il 24 febbraio abbia deciso nel mezzo della notte tra l'altro di dare vita a questa a questa invasione e tra l'altro effettivamente molte delle delle primissime ragioni che venivano adotte per spiegare questa invasione era putin impazzito essenzialmente ora la geopolitica non si occupa di psicologia si occupa sicuramente della un po della psiche collettiva del popolo sicuramente però tra l'altro questo è un altro fattore fondamentale ovvero accettare effettivamente che all'interno di decisioni del genere tra l'altro non vi sia soltanto una componente logico razionale ma può giocare effettivamente la psicologia e quindi il sentimento di una certa popolazione e in quel caso quella russa di cui putin essenzialmente considerato dal punto di vista geopolitico un prodotto perlomeno il il risultato non è un caso effettivamente che al momento il fronte interno russo ma è mantenuto nel senso che è ancora coeso attorno alla figura di putin e alla scelta quindi di combattere questa questa guerra che come sappiamo era definita un'operazione militare speciale però tornando alla alla sua domanda sicuramente va ci sono più punti di vista dal punto di vista ovviamente russo quindi tentando di mettersi nella mentalità dei russi va evidenziato ovviamente un elemento fondamentale la russia il paese più grande al mondo è un paese che è bicontinentale che ha quindi non so quanti chilometri di confine da dover difendere e questo significa proprio che sentimentalmente l'autocoscienza del popolo russo storicamente si è formata come una autocoscienza una psicologia collettiva sicuramente di insicurezza per la possibilità ovviamente di subire invasioni cosa che ovviamente è successa nel corso del tempo innumerevoli volte per il popolo russo questo ovviamente ha creato anche dei paradigmi di sicurezza secondo la percezione russa che ad esempio ritroviamo nella storia come l'idea del della teoria dello spazio vitale come ad esempio l'espansionismo difensivo quindi l'idea che la russia per difendere i propri confini e sentirsi sicura come come stato e poi appunto come potenza e poi come impero ha sempre dovuto giocare come dire all'attacco per difendersi no l'idea del che l'attacco è la miglior difesa essenzialmente un po' si può spiegare in questa maniera e sicuramente la percezione russa della cosiddetta erosione di quello spazio vitale che è avvenuta attraverso l'espansione ad est della nato sicuramente un fattore fondamentale da rilevare che è concreto effettivamente perché ci ricordiamo tutti la conferenza di monaco del 2007 in cui putin effettivamente andava a chiedere conto del fatto che l'idea della di quelle garanzie di sicurezza che erano state precedentemente assicurate dalla dagli stati uniti essenzialmente quindi dal mondo occidentale alla russia non venivano effettivamente poi implementate attuate perché l'abbiamo visto insomma dalla fine dal crollo del muro di berlino così come dal crollo dell'unione sovietica comunque l'espansione est della nato è un fatto ovviamente e questo ovviamente quindi si ricollega all'idea della teoria dello spazio vitale e probabilmente diciamo che uno diciamo così questa è sicuramente una delle ragioni alcuni come dire più anti americanisti di me potrebbero dire sicuramente l'arroganza americana di mantenere una politica delle porte aperte quindi il principio secondo cui tutte le potenze tutti i soggetti in qualche modo anche quelli parte dell'ex patto di varsavia possono aderire all'alleanza atlantica ecco questa politica questo principio diciamo così delle porte aperte dal punto di vista della politica estera dal punto di vista russo è stato percepito come sicuramente una arroganza dell'america che in quel momento come anche adesso è comunque la guida del mondo occidentale e perno del sistema internazionale a guida americana appunto detto questo perché putin ha invaso adesso ovviamente stiamo ancora nel momento in cui la storia si sta facendo quindi effettivamente dare risposte così definitive sarebbe molto molto arrogante sicuramente però putin ha scorto una finestra di opportunità strategica secondo me ad esempio anche per il fatto che ha percepito anche a seguito ovviamente della fuga roccambolesca da kabul e dall'afghanistan degli stati uniti la indisponibilità americana di effettivamente continuare ad andare per il mondo insomma in quale gendarme sentinella del mondo quindi putin ha avuto una ovviamente una consapevolezza giusta ovvero che in questo momento l'america è alle prese e quindi mi ricollego alla seconda domanda è alle prese con una crisi interna identitaria importantissima che ci coinvolgerà tutti ovviamente perché anche noi siamo parte della sfera di influenza e alcuni insomma molto geopolitici direbbero siamo comunque all'interno della periferia più importante dell'impero americano diciamo così però sicuramente putin ha colto la indisponibilità americana di continuare ad andare per il mondo come dicevo e anche la sua fase di grande autocentramento ed entropia cioè il fatto che per una serie di problemi interni per una serie di come dire disequilibri interni in cui gli americani stanno essenzialmente ripensando cosa significa essere americano quindi stanno ragionando sulla propria essenza a livello di che cosa significa l'americanità e quindi sono sempre più come dire coinvolti da questioni di politica interna tanto che tra l'altro negli ultimi sondaggi si denota proprio anche un calo importantissimo ad esempio del militarismo americano un qualcosa un elemento antropologico degli americani stessi che noi conosciamo a partire dalla guerra civile americana dalla guerra di secessione americana dalla guerra che ha fondato effettivamente l'America per come la conosciamo adesso e quindi questo ci dà il senso della crisi interna americana che Putin come dicevo bene aveva colto ovviamente anche in questo caso cioè nel senso proprio perché non esistono delle leggi della geopolitica effettivamente parlare di una capacità predittiva della geopolitica sarebbe molto arrogante quello che poi dopo si è venuto a creare è comunque una guerra in cui gli americani sono fortemente coinvolti anche se non direttamente ma che si tratta di una guerra che comunque per gli americani continua a non essere strategica ora che cosa significa lo dovremmo vedere di certo però gli americani va detto qualche risultato finora l'hanno già ottenuto proprio perché si tratta comunque di una guerra nel cuore dell'Europa perlomeno nel cuore geografico dell'Europa e quindi sicuramente per il primo anno di guerra mantenere il fronte unito dell'Europa e della Nato è stata la prima scommessa vinta non direi da Biden e persa da Putin però sicuramente vinta dall'America e persa dalla Russia in questo senso uno degli obiettivi di Putin o della Russia e di Putin diciamo così era sicuramente quello di spaccare il fronte europeo cosa che effettivamente non è avvenuto come abbiamo visto appunto con la svolta epocale della Germania che si dava al militarismo tra l'altro svolta poi smentita in realtà però la sensazione probabilmente russa che il fronte occidentale avrebbe insomma che sarebbe spaccato per una diversa consapevolezza anche di pensiero strategico tra americani ed europei effettivamente non è avvenuto quello che è avvenuto invece è una cesura perlomeno poi vedremo nei prossimi anni della interdipendenza effettivamente economica energetica fra ad esempio Russia e Germania qualcosa che gli americani hanno sempre voluto spingere per effettivamente attuare gli americani lo dicevano platealmente apertamente che non volevano ad esempio la realizzazione e l'attuazione del Nord Stream 2 ed effettivamente poi lo vediamo che hanno avuto ragione o perlomeno è accaduto esattamente così per chiudere sulla domanda sulla effettiva non strategicità della guerra russo-ucraina per gli americani questo secondo me lo vediamo anche dalle diverse dichiarazioni che sono state fatte dai vari leader dai vari vertici collaboratori di Biden chi ha prima voluto parlare di una sconfitta di Putin di una sconfitta importante per la Russia chi invece poi tra l'altro recentemente tra i vertici militari ha affermato che sarà molto difficile per l'Ucraina riprendersi la Crimea la volontà di Biden di tornare su alcune dichiarazioni e calmare i propri collaboratori e dire no noi dobbiamo anzi trovare addirittura una via di fuga per Putin una via di uscita diciamo così per non arrivare all'escalation nucleare queste diverse dichiarazioni denotano effettivamente che l'America forse non ha ancora chiaro che cosa vuole da questa guerra ma se lo può permettere se lo può permettere perché di nuovo non è una guerra strategica a differenza della guerra più strategica che si svolge nell'Indo-Pacifico a Taiwan contro la Cina ma di cui magari parleremo grazie è una risposta davvero esaustiva che focalizza l'attenzione sul ruolo degli Stati Uniti sulla genesi del conflitto quindi sottolinea anche il punto di vista russo che è molto importante comprendere capire e comprendere e lei accennava appunto al carattere non geostrategico di questa guerra per gli Stati Uniti e ha già anticipato parte diciamo della prossima domanda che volevo rivolgerle la Cina che ruolo ha la Cina in questo scenario in questo conflitto e se per gli Stati Uniti questa partita non è diciamo di rilevanza geostrategica esistono altre partite geostrategiche che si stanno combattendo si stanno preparando o si combatteranno in futuro anche secondo diversi analisti magari imminente? Allora domandona sicuramente la Cina non sono certa appunto che avesse contezza o meno della possibile insomma invasione russa dell'Ucraina non credo nemmeno che sia una delle questioni più rilevanti sicuramente per analizzare come la Cina si è posta rispetto alla guerra va tenuto conto il fatto che ha mantenuto essenzialmente una posizione piuttosto ondivaga, ambicua rispetto alla più o meno condanna di questa invasione anche perché come lo sappiamo dagli ultimi anni la Cina porta avanti questa cosiddetta intesa o amicizia senza limiti con la Russia che poi tra l'altro non significa necessariamente che sia si tratti di una intesa sinedì o comunque che è volta sempre di più a migliorare l'idea in realtà probabilmente più cinese è quella è senza limiti perché dobbiamo anche non romperci le scatole a vicende effettivamente è questa un'intesa tra Cina e Russia che si è creata perché essenzialmente gli americani hanno deciso di non giocare la Russia contro la Cina e quindi ha fatto sì che essenzialmente i suoi due rivali andassero ad unirsi in una intesa che comunque ha delle difficoltà o perlomeno che appunto tra l'altro non è un'alleanza militare è un'intesa sicuramente la Cina adesso è alle prese con una serie di dossier che sicuramente la guerra in Ucraina ha potuto accelerare nel senso che la distrazione americana in Ucraina ha permesso ovviamente alla Cina anche di sfruttare non soltanto quel periodo appunto di distrazione americana per concentrarsi su delle questioni di politica interna ma anche probabilmente per prepararsi a questa millantata invasione eventualmente di Taiwan che diversi vertici militari americani hanno dichiarato addirittura anche Burns quindi capo della CIA come se non imminente ma comunque sia prossima tra il 2025 e il 2027 le date sono divergenti ora a prescindere dal fatto che questa avverrà oppure no sicuramente Taiwan rappresenta il punto cruciale per la Cina che punta a riprendersela almeno entro il 2049 centenario del risorgimento della nazione centenario della fondazione della Repubblica Cinese dall'altra parte i problemi strutturali della Cina sono ancora fondamentali la Cina è ancora una potenza che non è riuscita ad andare per mare cioè è una potenza che ancora deve imparare ad essere marittima come sappiamo che ovviamente è il primo passo per poter in qualche modo attentare al controllo dei mari e degli oceani da parte americana che controlla ovviamente la maggior parte degli stretti e degli ismi e che quindi permette all'America poi di mantenere e controllare quella che noi oggi definiamo globalizzazione essenzialmente quello che io ritengo fondamentale rispetto alla guerra russa-ucraina dal punto di vista della Cina è che adesso la Cina negli ultimi mesi secondo me ovviamente come abbiamo visto ha proposto un piano di pace che è interessante dal punto di vista cinese perché abbozza alcuni concetti questi nuovi paradigmi securitari come dicevo prima che si oppongono ai paradigmi securitari dell'Alleanza Atlantica o perlomeno dell'America e quindi del mondo occidentale ovvero ad esempio ribadisce ovviamente l'importanza dell'integrità territoriale e questo ovviamente fa riferimento anche al discorso di Taiwan che la Cina vede come una provincia del proprio impero e che ovviamente non si allinea in realtà a quello che la Russia ha fatto in Ucraina in questo caso appunto invadendo un paese sovrano però dal punto di vista russo in realtà come lo sappiamo bene dal famoso articolo dell'estate del 2021 di Putin sull'unità storica dei popoli russi e ucraino essenzialmente se leggiamo quell'articolo vediamo che secondo Putin e secondo probabilmente la Russia di Putin anche l'Ucraina in realtà non è che una provincia o comunque sia una repubblica sorella a cui non viene effettivamente riconosciuta quella dignità statuale come noi del mondo occidentale diciamo così riconosciamo all'Ucraina in quanto paese sovrano diciamo che per la Russia l'Ucraina è più una piccola Russia che un'Ucraina in senso proprio, in senso di paese indipendente altri concetti importantissimi su cui la Russia e la Cina stanno cercando di convergere in opposizione quindi al mondo unipolare a guida americana è quello della indivisibilità della sicurezza quindi proprio quel concetto secondo cui la mia sicurezza inizia dove finisce la tua quel concetto che essenzialmente da Helsinki quindi da 1973 a 1975 si opponeva proprio a quella idea del principio della politica delle porte aperte quindi di apertura illimitata all'adesione a determinate alleanze in quel caso l'alleanza atlantica e la NATO e a cui ovviamente Russia e Cina si oppongono e poi ovviamente per terminare secondo me come abbiamo visto anche da le divergenze nella condanna cioè la divergenza nei voti di condanna alla invasione russa insieme all'Assemblea Generale dell'ONU anche lì notiamo come ci sia un qualcosa molto interessante che si sta venendo a creare ovvero l'influenza che la Cina sta tentando di avere e di mantenere insieme anche alla Russia nei paesi africani prima di tutto ma non solo ovviamente quindi anche più nel suo estero vicino quindi asiatico che tra l'altro ricordiamo lo rappresentano la maggioranza della demografia mondiale rappresenta proprio il tentativo cinese e in seguito russo di proporre quella contro globalizzazione che a livello infrastrutturale si atto ovviamente attraverso le vie della seta Belter Road Initiative una delle arterie tra l'altro di questa passava proprio per l'Ucraina che vuole essenzialmente tentare di convincere questi altri paesi del sud globale del sud del mondo che probabilmente nella storia hanno vissuto anche un certo ecovano un certo risentimento verso l'occidente colonialista diciamo così per effettivamente avvicinarli a sé e secondo me appunto ad esempio le divergenze nella condanna all'invasione russa cioè essenzialmente notare che i paesi astenuti dalla condanna all'invasione russa rappresentano poi la maggioranza oltre 4 miliardi della popolazione mondiale è effettivamente indicativo di come tra l'altro questa guerra la guerra russo-ucraina venga percepita in maniera molto differente nel sud globale quindi per la maggioranza della popolazione mondiale ovvero non come una guerra fondamentale assolutamente esistenziale come magari non lo è necessariamente per noi ma comunque è importantissima perché noi ce l'abbiamo alle porte di casa per questi paesi ovviamente si tratta di una delle tante guerre in cui probabilmente l'occidente sta applicando dei paradigmi o comunque sia dei principi e dei doppi standard che non vanno molto a genio ovviamente a questa popolazione a queste popolazioni che vorrebbero probabilmente una concentrazione maggiore su altre questioni come ad esempio il cambiamento climatico come la sicurezza nazionale insomma tutte questioni su cui secondo me la Cina piano piano anche proprio con la percezione di che cosa è il tempo per la Cina che è qualcosa di molto più lungo rispetto all'idea occidentale individualista però probabilmente avrà un seguito e quindi andrà monitorato bene lei ad un certo punto ha nominato i mari e quindi gli oceani una curiosità che importanza hanno proprio dal punto di vista geopolitico e della geopolitica che importanza hanno i mari noi sappiamo che diverse dottrine strategiche di diverse potenze regionali o grandi potenze io penso alla Turchia si fondano anche sull'importanza del controllo dei mari del dominio sui mari una volta si sarebbe detto si sarebbero chiamate si chiamavano talassocrazie storicamente gli studiosi di geopolitica le chiamavano così la Turchia in questo caso qui per esempio ha elaborato una vera e propria dottrina di politica estera basata sul controllo dei mari che va sotto il nome di Mavi Batan la patria blu quindi quanto è importante a livello geopolitico per un paese per una grande potenza controllare i mari e quindi ricollegandomi al caso della guerra russo-ucraina quanto è importante anche il controllo del mar nero ed essere presenti appunto nei mari dal momento che nel caso russo l'invasione e ancora nel 2014 della Crimea costituisce un modo per protendersi anche verso il mare certo assolutamente uno degli obiettivi territoriali fondamentali di questa guerra dal punto di vista russo è proprio accedere al mar nero quindi ottenere uno sbocco che poi lo porti la Russia essenzialmente al Mediterraneo quindi ai cosiddetti mari caldi qualcosa che sicuramente la Russia tra l'altro vorrà mantenere e credo appunto tra l'altro si giocherà molto dell'attrito che si andrà a creare a livello negoziale fra Ucraina e Russia e quindi anche fra Nato e Russia ovvero il mantenimento del controllo da parte della Russia del Mar Dazov probabilmente possiamo anche ipotizzare che la Russia avrebbe voluto sicuramente ottenere cioè direttamente chiudere l'Ucraina in se stessa quindi renderla essenzialmente una nazione uno stato totalmente tellurico cioè nel senso chiudere senza sbucco al mare adesso è difficile pensare che la Russia sia in grado di arrivare fino a Odessa però l'ultima volta che ci sono state appunto però si trattava di marzo aprile dell'anno scorso le navi russe in realtà erano già lì pronte allo sbarco ma insomma è qualcosa che sicuramente vedremo tra l'altro ovviamente la Turchia che ha le chiavi di accesso al Mar Nero è fondamentale e tra l'altro ovviamente rappresenta un attore chiave uno dei pochi vincitori come scrivo nel libro Perora della guerra perché è in grado comunque di destreggiarsi fra due non nazioni ma davvero appunto tra un'alleanza e un'intesa portando avanti proprio interesse nazionale perorando alcune cause e se vogliamo anche accelerando alcune alcune sue mire geopolitiche ovviamente in maniera totalmente opportunistica ma come una potenza come dire super consapevole di se stessa delle proprie capacità e della propria narrazione tra l'altro come ad esempio di cui parte ovviamente la patria blu perché fa parte ovviamente delle proprie aspirazioni sa fare ecco qualcosa che sicuramente noi in Italia ci siamo completamente dimenticati da diverso tempo a questa parte quindi è chiaro soprattutto per noi italiani l'importanza dei mari e degli oceani beh allora per noi italiani ovviamente l'idea di poter semplicemente assicurarsi un mar mediterraneo calmo e pacifico è fondamentale per assicurarci quella placidità di vivere che probabilmente vorremmo continuare ad avere quindi essenzialmente continuare a concentrarsi su rotte commerciali e quindi benessere e qualità della vita e sicuramente questo sarebbe interessante per noi fondamentale in realtà dal punto di vista italiano sicuramente sarebbe molto interessante riuscire ad ottenerla questa benedetta zona economica esclusiva che in quanto paese al centro del Mediterraneo siamo rimasti ancora uno dei pochi paesi a non averla completamente definita o perlomeno ci siamo arrivati più tardi degli altri tanto che adesso ci dovremmo trovare a negoziare con gli altri paesi dall'Algeria eccetera appunto la delimitazione di queste zone economiche esclusive interne al Mediterraneo in generale che cosa significa controllare i mari e gli oceani non significa controllare ovviamente ogni pezzetto delle acque sarebbe impossibile però significa controllare gli ismi e gli stretti ovvero quelle restrizioni della terra in cui le navi devono necessariamente passare per arrivare da un paese all'altro e quindi per portare le merci e noi lo sappiamo che oltre il 90% delle merci mondiali passano attraverso i mari quindi vengono sposate da un continente all'altro attraverso i mari quindi chi controlla quegli stretti quelle restrizioni quei pezzi in cui la terra si restringe essenzialmente controlla anche l'economia mondiale e probabilmente chi controlla l'economia mondiale è anche considerato il perno del sistema mondiale quello che adesso ovviamente sono gli Stati Uniti d'America e che quindi dal punto di vista geopolitico fondano anche quella che è la globalizzazione ovvero il controllo degli ismi negli stretti essenzialmente dal punto di vista geopolitico ovviamente dal punto di vista economico eccetera che avrebbe tutt'altre declinazioni però ecco questa è l'importanza del controllo degli oceani e non solo cioè ricordiamole anche che nella storia tutti gli imperi o perlomeno tutte le potenze che hanno avuto un'egemonia regionale mondiale a seconda poi della percezione della storia perché se vogliamo l'impero romano era effettivamente durante il suo tempo l'impero mondiale per quello che si sapeva al momento all'epoca per quello che si conosceva del mondo che cos'era il mondo in quel periodo e l'impero romano era un impero era una potenza marittima l'impero britannico era una potenza marittima gli americani gli stati uniti sono una potenza marittima il problema adesso è che la Cina una potenza marittima non l'è mai riuscita a diventare è un processo questo molto violento a livello qualitativo perché ovviamente si tratta di fare in modo che la gente cioè le persone non si tratta soltanto ovviamente di avere dispositivi militari quindi le porta aerei dalla dalla Cavour o all'Alioning che tra l'altro appunto è una porta aerei cinese di matrice ucraina si lo dice anche nel libro si si tratta ovviamente di come dire insegnare o perlomeno trasmettere alle persone cioè quindi a chi si occuperà ai vertici militari che andranno per mare di sentirsi marittimi di percepirsi quindi c'è proprio un cambiamento antropologico se vogliamo che deve attuarsi nella mentalità cinese ed è un processo probabilmente che non basterà qua un paio di anni per completare probabilmente potrebbe essere anche un processo generazionale o comunque sia di decenni però questa è tutta l'importanza ovviamente della sfida cinese alla hegemonia americana che vedremo come si sostanzierà però ecco che sicuramente diciamo ecco che per concludere se la Cina non riesce a prendersi Taiwan nei prossimi anni o entro il 2049 come si è ripromessa di fare è molto difficile che potrà cercare di attentare all'ulteriore catena di isole e quindi all'accerchiamento che gli americani con le basi militari attorno al mar cinese meridionale hanno da anni dalle da Guam alle Filippine al Giappone stesso e quindi ecco non so se ha risposto grazie anzi assolutamente esaustiva anche in questa sua risposta a questo punto io abbiamo parlato di guerra io vorrei farle una domanda su quella che è la dimensione che assumerà la guerra nel futuro o meglio anche la guerra contemporanea da un po' di tempo si sente parlare di hybrid warfare di guerre ibride vorrei capire qual è in tutto questo contesto di nuove guerre il ruolo che potrà rivestire l'intelligence il ruolo delle informazioni e il ruolo anche della propaganda considerando anche tutte le conseguenze negative l'impatto negativo che la propaganda può avere nelle nostre società dell'Europa occidentale ma allora l'impatto dell'intelligence in questa guerra l'abbiamo visto sicuramente come cerco di spiegare nel libro all'inizio ovviamente in realtà ci sono tantissime narrazioni su che cosa è successo effettivamente i primi giorni o i mesi prima dell'invasione e sicuramente come dicevo prima è qualcosa di cui ovviamente leggeremo e capiremo a fondo nei prossimi anni quando questa storia sarà finita però sicuramente ovviamente è un gioco dell'intelligence tra occidente e russia quindi l'FSB essenzialmente c'è stato ci sono stati dei problemi enormi come dico sempre ogni guerra perlomeno come scrivo nel libro parte anche da un fallimento effettivamente dell'intelligence in questo caso effettivamente l'intelligence americana ha avuto un ruolo vincente nel effettivamente riuscire a a predire o comunque sia ad anticipare quello che sarebbe accaduto dall'altra parte probabilmente l'intelligence russa ha fallito in quello che definisco nel libro il cortocircuito essenzialmente che si viene a creare nell'anticamera del potere o perlomeno nel corridoio che effettivamente ha portato le informazioni che arrivavano e che erano di base in Ucraina che quindi gli operatori di intelligence dell'FSB raccoglievano nei mesi precedenti e poi la decisione del principe diciamo così secondo la visione scimittiana quindi la decisione di Putin di attaccare probabilmente a Putin effettivamente perlomeno secondo il mio il mio parere sono arrivate delle informazioni a partire dall'intelligence così sbagliate perché probabilmente gli operatori di intelligence soffrivano così tanto anche la verticalità del potere quindi non volevano in qualche modo far arrivare a Putin delle informazioni che gli avrebbero fatto storcere il naso perché non rappresentavano quello che erano i suoi desiderata e quindi il filtraggio delle informazioni si è così deviato e contaminato da far arrivare effettivamente a Putin una percezione della realtà differente della realtà ucraina differente da quella che poi dopo era ovvero la sensazione che i militari russi sarebbero stati aperti cioè sarebbero stati accolti con biondine con le trecce sventolanti insomma il vestito nazionale e quindi i militari sarebbero stati accolti con con fiori in una parata insomma verso Kiev cosa che ovviamente non è successa ma probabilmente la percezione russa era questa questo per parlare ovviamente dell'importanza dell'intelligence dei vari fallimenti essenzialmente che ci sono stati l'importanza dell'intelligence occidentale americana britannica non solo adesso nella guerra in Ucraina è fondamentale soprattutto per quel che riguarda le operazioni tattico-militari degli ucraini che altrimenti non sarebbero in grado ovviamente di prevedere probabilmente i vari assalti insomma le varie operazioni di incursione anche appunto russa l'abbiamo visto anche rispetto all'abbattimento del Moskva quindi l'importanza dell'intelligence è chiaramente assodata per non parlare ovviamente di Starlink che in tutti i posti in cui vado e sono stata qualche settimana fa erano nelle retrovie di Bakhmut e l'unico modo ovviamente per avere connessioni in internet era ovviamente connettersi a Starlink che lì praticamente domina l'intero Donbass e che è ovviamente una risorsa incredibile per le operazioni proprio militari sul campo degli ucraini per quel che riguarda in generale l'idea della propaganda dal punto di vista geopolitico credo che sia fondamentale in prospettiva futura per quello che dicevo prima in realtà ovvero per come verrà narrata questa guerra nei prossimi anni nei prossimi decenni e quindi come contribuirà ancora di più a quel conflitto e a quel contrasto di narrazione della storia quindi la storiografia che avverrà effettivamente che ci sarà fra i vari popoli perché probabilmente i russi la narreranno mi lancio diciamo così in alcune possiamo lanciarci effettivamente in alcuni scenari la russa probabilmente potrebbero narrarla come una guerra che prima era una guerra ovviamente verso la denazificazione verso la salvezza dei popoli russofoni ma che ora invece è diventata una guerra non più un'operazione militare speciale per l'esistenza stessa della Russia quindi per la sopravvivenza della Russia in quanto anti-occidentale rispetto all'occidente collettivo l'Ucraina la narrerà probabilmente come una guerra come ascolto ogni giorno perlomeno come ascoltato nelle varie interviste ai vertici di Kiev ai consiglieri presidenziali come una guerra per la sopravvivenza per l'indipendenza della nazione e quindi paese sovrano e probabilmente quindi come quello che potremmo dire anche noi geopolitici ovvero noi analisti di geopolitica ovvero come il tentativo della Russia di Putin e di un impero in decadenza di cercare di ancora trattenere a sé una nazione in formazione che cerca di affrancarsi dall'impero altrui diciamo così di cui storicamente era parte e questa è esattamente anche la stessa narrazione che ne fanno ovviamente gli ucraini adesso probabilmente gli ucraini potranno narrarla come un ulteriore step e tappa nel processo di ulteriore formazione della propria autocoscienza nazionale in Ucraina non ti direbbero che adesso questa guerra ha come dire ha forgiato la nazione ucraina è una narrazione che anche io all'inizio avevo una spiegazione diciamo così che anche io inizialmente mi ero fatta ma che credo che adesso sia troppo semplicistica perché l'Ucraina comunque ha una storia ovviamente molto più lunga quindi sicuramente questa è un'ulteriore tappa nel battesimo se vogliamo della nazione ucraina gli americani potrebbero narrarla in altro modo noi europei ovviamente potremmo narrarla come una guerra che ha riportato a casa nostra alcune categorie che avevamo perso sicuramente a livello proprio anche noi di coscienza del popolo però ecco insomma questo è una delle possibili narrazioni però credo che sia fondamentale per il discorso della propaganda che si collega in realtà poi sempre al discorso del mito fondativo dell'epopea della nazione della pedagogia nazionale che poi si diversifica nelle varie collettività bene grazie a questo punto una penultima domanda è una domanda che ci stiamo ponendo un po' tutti a partire dal 24 febbraio del 2022 quanto è praticabile quanto è concreta l'opzione nucleare esiste una linea rossa e se sì qual è? Allora una grande un'altra grande domanda io credo che avendo visitato l'Ucraina per oltre tre mesi e mezzo in Ucraina l'idea che il nucleare sia una opzione concreta ed effettiva è reale nel senso che come scrivo anche nel libro intervistando diversi militari i militari mi dicevano che non davano non si chiedevano se mai Putin deciderà di utilizzare il nucleare ma quando effettivamente questa cosa accadrà e la vera domanda mi dicevano è che cosa poi risponderà l'Occidente cosa deciderà l'Occidente di fare quindi in Ucraina è considerato un'opzione reale ma perché? Perché gli ucraini sentono essenzialmente questo senso di necessità di dover per forza riprendersi tutti i territori e quindi sentono questa percezione di invasione e quindi non pensano effettivamente di arrivare magari a una soluzione negoziale che possa lasciare ai russi una qualche appunto una qualche rivendicazione territoriale essenzialmente e quindi sanno bene che il loro obiettivo per quel senso di necessità che avvertono è effettivamente quello di spingere i russi alla sconfitta e poiché gli ucraini conoscono bene i russi o perlomeno dal punto di vista ucraino e se vorremmo anche dal punto di vista polacco ad esempio Polonia e Ucraina l'abbiamo visto adesso utilizzano gli stessi paradigmi di sicurezza cioè considerano il russo mediamente antropologicamente imperialista quindi a livello territoriale considerano i russi invadenti e quindi sanno che non si fermeranno essenzialmente esattamente come gli ucraini sentono di non potersi fermare per quel senso di necessità di dover difendere il proprio territorio questo è il punto di attrito che effettivamente potrebbe portare a un'opzione nucleare sul campo dal mio punto di vista ovviamente proprio perché come dicevo prima la questione della vittoria di che cosa significhi la vittoria per russi e ucraini in questo momento è molto diversificata cioè non c'è un punto di convergenza che possa quindi pensare possa in qualche modo aprire l'idea di una soluzione negoziale gli ucraini se vogliono riprendere la Crimea questa è una dichiarazione che mi viene fatta continuamente in tutti i vertici politici di Kiev che ho intervistato finora si vogliono riprendere l'obiettivo dichiarato è riprendersi tutti i confini dei territori del 1991 quindi l'Ucraina indipendente quindi Crimea Donbass e ovviamente tutte anche le altre blast che la Russia ha anesso formalmente dall'altra parte i russi vogliono come diciamo prima sbocco al mare ovviamente probabilmente ottenere anche un riconoscimento internazionale della Crimea sicuramente mantenere e solidificare se vogliamo quel controllo territoriale sulle varie blast che cingono e che portano appunto dalla da Rostov sul Don dalla Russia alla Crimea proprio per questa divergenza assoluta di che cosa dare la vittoria per l'uno e per l'altro effettivamente io posso immaginare che se Putin fosse mai messo spalle al muro di fronte a una sconfitta rispetto al mondo occidentale in Ucraina si potrebbe pensare anche a una soluzione nucleare di questo genere che non significa dobbiamo anche calmarci nel senso non significa annichilimento dell'umanità significherebbe utilizzo di armi tattiche nucleari probabilmente quindi tattiche con un effetto distruttivo molto minore rispetto a quelle strategiche e a quelle quindi che abbiamo visto a Hiroshima e Nagasaki sarebbe probabilmente mi immagino un effetto distruttivo volto soprattutto a scioccare la psicologia europea prima di tutto oltre che a quella ucraina che però ricordiamolo se l'aspettano quindi sono probabilmente più psicologicamente preparati a una soluzione a una ipotesi di uno scenario di questo genere però ecco credo che qualcosa che giochi contro l'opzione nucleare è il totale disinteresse americano per uno scenario di questo genere nel senso che come dicevo prima Biden stesso ha parlato di una via di uscita per Putin sono gli americani che chiamano gli russi in quella linea di contatto sulla cosiddetta de-escalation che è avvenuta nei mesi scorsi relativamente probabilmente ai vari scontri di artiglieria attorno alla centrale di Zaporizia e quindi eventualmente che poteva dare apertura a un possibile incidente nucleare sono gli americani che poi a Nuova Delhi con Blinken vanno a cercare Lavrov e quindi cercano di instaurare comunque un dialogo ed eventualmente Lavrov che non risponde quindi il disinteresse americano a arrivare a uno scenario nucleare quindi comunque distruttivo in Europa l'indisponibilità americana quindi anche a occuparsi troppo di queste questioni che diventerebbero così delicate e che renderebbero così vulnerabile la coscienza stessa europea di cui gli americani comunque continuano a sentirsi minimamente responsabili e non cost'altro per i centomila militari americani che stanno sul territorio europeo fa sì che secondo me gli americani non faranno in modo che si arrivi a una soluzione del genere cioè un'opzione nello scenario di possibile sconfitta della Russia non si tratterà mai di una sconfitta netta cosa che tra l'altro appunto vediamo è difficile a momento pensare a uno dei due schieramenti che possa davvero ottenere una vittoria netta ed è motivo per cui ormai da diversi mesi probabilmente da ferragosto scorso con l'inizio della battaglia di Bakhmut siamo in una piena guerra d'attrito in cui è difficile scorgere un vincitore netto ed è il motivo secondo cui per me come anche scrivo nel libro l'establishment americano per lo meno parte dell'establishment americano immagina questa cosiddetta soluzione coreana ovvero una linea demilitarizzata in cui i russi manterranno probabilmente una parte dei territori occupati che non verrà mai formalmente internazionalmente riconosciuta ovviamente che non verrà mai quindi accettata diplomaticamente dagli americani o dall'occidente ma che nei fatti resterà russa ovviamente questa è una soluzione negoziale di compromesso una sorta di armistizio totalmente temporaneo che però potrebbe lasciare respirare entrambi gli schieramenti e che poi non sappiamo per quanti anni si manterrà perché e questo secondo me è il vero punto di attrito nel campo occidentale fra americani e ucraini che si dovrà creare gli ucraini non accetterebbero mai una soluzione del genere e potrebbero essere costrette ad accettarla perché come sappiamo sono essenzialmente totalmente dipendenti dalle armi occidentali soprattutto dall'industria bellica americana che foraggia quindi i militari delle nostre armi quindi degli Heimars eccetera quindi gli americani potrebbero in qualche modo spingere indirettamente gli ucraini ad accettare una soluzione di questo tipo una soluzione di compromesso e al contempo probabilmente continuare a armare fino ai denti gli ucraini di modo da dissuadere i russi dal pensare fra altri otto anni di essenzialmente ne dar luogo a un'altra escalation cosa che è avvenuta dalla Crimea quindi dal 2014 ad oggi grazie a questo punto ci accingiamo a concludere le volevo rivolgere un'ultima domanda e questa domanda ha a che fare con appunto la guerra che è tornata a incombere in Europa a partire dal 24 febbraio dell'anno scorso questa questa incombenza questa minaccia ha creato uno shock di carattere culturale e psicologico quali sono le conseguenze di questo shock e che impatto ha questo sulle nostre vite ma allora lo shock culturale sicuramente c'è stato e devo ammettere che io mi sono dovuta un po' abituare a questo anche shock nel senso che ho vissuto gli ultimi 4-5 anni della mia vita in America quindi antropologicamente e culturalmente respiravo un'aria completamente differente in Europa però è chiaro che l'idea ad esempio di ripensarsi militari cioè di ripensarsi bellici di come dire pensare che nei nostri bilanci annuali dovessimo pensare appunto a un corpo appunto preciso o comunque sia un asset monetario specifico per la difesa e quindi anche a come dire rimmaginare i nostri stati interessati ai dispositivi bellici e dispositivi militari era qualcosa di totalmente fuori dalle nostre autocoscienze proprio perché comunque pieni del nostro placido modo di vivere inteso come concentrato sulla qualità della vita sul welfare e quindi sul benessere essenzialmente era difficile effettivamente per noi immaginare di ricominciare proprio a parlare di questi argomenti noi italiani secondo me ancora di più sicuramente però noi italiani lo sappiamo siamo stati spesso nella nostra storia soprattutto dopo insomma la fine della seconda guerra mondiale la ricostruzione eccetera eccetera comunque anche a livello di catena del valore siamo immersi anche perlomeno nella parte nordica settentrana dell'Italia dentro la catena del valore tedesca e quindi sicuramente guardiamo alla Germania come al perno ovviamente del sistema europeo e sicuramente la svolta epocale che ha dichiarato la Germania qualche giorno dopo ovviamente il 24 febbraio è stato di grande impatto perché se la Germania che è il perno del sistema europeo dice dobbiamo riammare dobbiamo spendere il 2% del PIL nella difesa dobbiamo ripensarci in qualche modo in stampo difensivo per la difesa dei nostri confini è qualcosa effettivamente di assolutamente scioccante certo il punto è che io non credo che nonostante questo shock l'opinione pubblica italiana ed europea sia davvero come dire adeguata a questo nuovo modo di pensare ovvero abbiamo notato anche semplicemente un disinteresse progressivo alla guerra e a come sta procedendo la guerra che continua ad essere comunque alle porte di casa e sicuramente il fatto che comunque la Germania non abbia tenuto fede a quella svolta epocale di cui diceva perché poi dopo i vari ministri hanno affermato effettivamente che non spenderanno i soldi che avevano promesso nel 2022 non sono stati spesi nel 2023 lo stesso quindi ci dà l'idea effettivamente che poi siamo molto reluttanti molto reticenti a cominciare a ripensare a quelle categorie di difesa dei confini a quelle categorie per cui se vogliamo mantenere la pace dobbiamo anche assicurarci che siamo solidi dal punto di vista della sicurezza nazionale secondo me abbiamo la mia percezione è che noi italiani soprattutto abbiamo proprio paura quasi di ripensare e di utilizzare di nuovo questi concetti e quindi credo che essenzialmente probabilmente questo sciocco culturale non si è come dire perlomeno declinato non si è esatto e quindi probabilmente avremmo avremmo e questo è un trauma dirlo però avremo bisogno di ulteriori traumi probabilmente per davvero effettivamente convincerci di quello che è un nuovo riassetto degli equilibri mondiali che si sta verificando e che si sta verificando in primo luogo in Europa e a cui per forza dovremmo riabituarci potrebbe sembrare una considerazione cinica questa ma la mia impressione è che purtroppo 77 anni di pace ci hanno abituato a stare in pace a vivere in pace a vivere in democrazia e forse anche a dare per scontati questi beni questi beni pubblici la pace da un lato la democrazia liberale dall'altro dobbiamo ricordare come fanno per fortuna anche i politologi gli storici gli analisti di geopolitica cioè gli esperti dobbiamo ricordare che questi beni non sono assolutamente scontati e che basta poco per finire dall'altra parte quindi in svolte autoritarie oppure mettere a repentaglio la pace e quindi finire in una situazione di guerra sono assolutamente d'accordo bene allora abbiamo concluso io vi ringrazio vi ringrazio per l'ascolto ringrazio anche Greta Cristini e ricordo che è possibile acquistare il suo libro intitolato geopolitica capire il mondo in guerra per l'editore PM in tutte le librerie e nei siti di e-commerce vi ringrazio ancora e grazie ancora all'ospite che è stata presente grazie a voi grazie per aver guardato questo video se volete approfondire questo ed altri temi oltre ad iscrivervi al canale potete abbonarvi alla versione cartaccia di Pandora Rivista tra uscite l'anno con un argomento diverso ogni volta per capire più in profondità le grandi trasformazioni del nostro tempo